Ciao ragazzi, buonasera a tutti, siamo qui alla premiazione del torneo Coppa America 2019 targato SK, un grande applauso prima di tutto a voi, le due finaliste Uruguay e Peru, grandissimi alla struttura che ci ospita nella veste di Franco e Gianluca Guarino che abbiamo il piacere di avere stasera sul campo, tutto lo staff SK compreso anche se ve lo rubo, però fate un applauso anche all'arbitro Andrea Righi anche se è giuventino, grazie ragazzi allora partiamo subito con la premiazione, partiamo in ordine di ruolo da un ex equo e ce li abbiamo tutti e due qui stasera, i migliori portieri di questa Coppa America che è stato un grandissimo torneo di fine stagione ma con ben 12 squadre molto agguerrite, quindi chiamo qui a ricevere il premio di miglior portiere della Coppa America 2019 SK, Andrea Cotugno e Riccardo Franco, grande applauso, Riccardo che ha disputato la finale, prego vieni, questo è il tuo, ok complimenti, complimenti Andrea, Andrea del Cile, prego ragazzi fatevi una foto qui guardate Max, allora ragazzi no con Riccardo ci vedremo fra pochissimo anche per la finale, grazie mille ancora complimenti Riccardo, Andrea no fermati qua, fermati, 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 visto che con il Cile, con il team Ranzo che ci hanno accompagnato anche stasera, noi ci siamo visti in finale, siete usciti in semifinale per 8 a 7, bellissima semifinale, com'è andato questo torneo e se avete qualche modifica da fare al team, alla squadra eventualmente se a settembre siete ancora con noi? Ma non lo so, è da vedere, adesso andiamo in vacanza, poi ci pensiamo, dispiace non essere arrivati fino a qua però comunque vedendo il livello di stasera, complimenti a tutte e due le squadre, sono stati veramente bravi. Complimenti, complimenti a te Andrea, ci vediamo allora alla prossima, ciao grazie. Adesso andiamo in ordine di ruolo, è presente qui perché ha disputato la finale, il miglior attaccante di questo torneo e credo che non regalo nulla, qui abbiamo anche Giovanni Porcaro l'esperto, non regalo nulla nel dire che è uno dei migliori attaccanti in assoluto del circuito targato Sergio Max, stiamo parlando di Achille Sernia, complimenti, grande applauso, grazie. Complimenti. Prego. Achille, due parole e una dedica finale. Dedico a questa squadra che ha dato tutto, anche questa giornata, quindi siamo soddisfatti così, siamo riusciti a finalmente... A portare a casa un titolo. A portare un titolo dopo tanto tempo. La dedica anche alla ragazza che sto frequentando, è ancora una frequentazione. Perfetto, vogliamo... Allora, è ancora in fase embrionale, quindi non diciamo ancora niente. Ci vediamo fra pochissimo, complimenti Achille, grazie per avermi insieme a tutta la mano, ok? E adesso il miglior giocatore della fase playoff, ovviamente uso i costume dello staff SK, dare il miglior giocatore di tutta la fase playoff, soprattutto a chi vince con merito la finale. E quindi andiamo nelle fila arancionere del Peru alias Olanda. Abbiamo deciso, insieme a Max dello staff degli organizzatori SK, Paolo Izzo e l'arbitro, che il miglior giocatore di tutta la fase playoff, e quindi della finale, e ha vinto la finale, è Mattia Scarano. Scaramanticamente si era seduto sulla sediolina per non far vedere che... che te lo sentivi. Prego, questo è per te. Prego? Due parole, due parole, vai. Vabbè, nulla, volevo ringraziare la squadra, che è grazie a loro che ho vinto questo premio, sicuramente. Anche perché, se per merito l'avete dato alla squadra vincitrice del torneo, a maggior ragione, devo ringraziare tutta la squadra e soprattutto il presidente che ci ha promesso una cena a tutti quanti. Ma quando si darà questa cena? Così ci infiziamo anche noi e gli avversari. Se gli avversari sono disponibili anche stasera. Ok, perfetto, grazie Mattia, di nuovo complimenti, a dopo. E adesso saliamo sul podio, dopo un grandissimo percorso, sia in Soccer Cup, che purtroppo per loro mi dispiace ripetermi, però due finali, anche se sono secondi posti fanno punti, fanno ranking, fanno ranking, soprattutto se sono state contro QDV e contro Olanda, anzi Peru. Quindi un grande applauso, a maggior ragione, per la seconda finale stagionale e il secondo secondo posto. Scusate ciò che parole. Grande applauso all'Uruguay, complimenti ragazzi, la Coppa dei secondi classificati Coppa America. E complimenti anche al migliore in campo Marco Natali, ovviamente. Complimenti Marco. E allora adesso andiamo sul gradino più alto del podio di questa entusiasmante Coppa America e quindi vengono ad alzare il trofeo più grande. Un grande applauso anche dagli avversari, sicuramente, al Peru. Allora signori e signori, un grande applauso finale di questa Coppa America ai campioni in assoluto, primi classificati, l'Olanda peruviana. Coppa America ai campioni del Peru.